un buon speaker molto 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 sempre in classe super 1600 abbiamo la Citroen NC2 con Foglietti Gisleri bella questa avventura di casa Citroen sempre due ruote motrici e allora Foglietti anche a te chiedo innanzitutto vi do questo bel sorriso sei emozionato ad essere al emozionato no sono emozionato per una gara di casa importante che stai prendendo via di questo qua sicuramente e comunque tanta gente è fatto bene e tra l'altro una gara praticamente di casa soprattutto nella tua sculia bisogna tenere alto il nome? Sì certamente la sculia via la corsa e noi non siamo in questa valletta qua siamo nella valletta della valletta del Sesia quindi siamo dalla parte opposta delle vecchie prove di Purino comunque prove molto importanti nuove e selettive in bocca al lupo Foglietti Gisleri Citroen C2 alla vettura di proprietà della Golf che anche se non appartiene a una delle classi da un'altra donna a un'altra donna o Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.